Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi voglio proporvi un nuovo video recensione e sto parlando di queste due confetture. Sono due prodotti della Lidl. Ci tengo a precisare che tutti i video che farò per recensire i prodotti non sono video in collaborazione con le aziende, quindi non me li hanno mandati ma li ho acquistati direttamente io nei miei vari giri, nell'ipermercato oppure in vari negozi che ci sono qui a Bari dove trovo dei prodotti che penso possano essere interessanti per gli intolleranti al lattosio oppure dei prodotti per la cura della persona che sto utilizzando. Questi prodotti, ripeto, non sono stati inviatimi dall'azienda ma li ho acquistati direttamente io. Sono le confetture della Maribel, queste è i lamponi, questa è i frutti di bosco, questa è quella che sto utilizzando in questo momento. Io queste già le conosco, le utilizzo oramai da quasi un anno, più o meno, sì. E ho già realizzato anche alcune ricette con la marmellata di lamponi, vi lascio su nelle schede informative, la ricetta della cheesecake senza formaggio con lo yogurt, sulla quale ho cosparso appunto la marmellata di lamponi. Sono buonissime, non costano tantissimo, sono prodotti della Lidl, se non ricordo male il gusto dei lamponi è quello che costa di più rispetto a quello dei frutti di bosco, dovrebbe costare circa 2 euro, mentre i frutti di bosco qualcosa a meno, tipo 1,70 euro. Le confezioni sono da 450 grammi e sono 50% di frutta, quindi vuol dire che c'è veramente la frutta. Gli ingredienti sono i seguenti, confettura extra di lamponi, frutta utilizzata a 50 grammi su 100 grammi di prodotto, e questo è veramente tanto rispetto ai prodotti che troviamo in commercio e negli supermercati e che alla fine di frutta non hanno praticamente nulla. Ci sono prodotti industriali che hanno una percentuale bassissima di frutta, tranne i prodotti biologici e ci sono marchi che sono veramente ottimi, marchi italiani, prodotti italiano, tutto italiano, tranne quelli che costano veramente tanto, altri veramente sono brutti. Zuccheri totali 60 grammi per 100 grammi, prodotto pastorizzato, ingredienti 50% lamponi, zucchero, sciroppo di glucosa, fruttosio, gelificante, pectina, acidificante, acido citrico. Stop! Questi sono gli ingredienti all'interno di ogni confezione. In questo caso era i lamponi, ora andremo a leggere i frutti di bosco. Una volta aperto, conservare in frigorifero, da consumarsi preferibilmente entro, vedere il coperchio, prodotto in Germania, quindi è un prodotto tedesco. Ok, non è italiano, però io praticamente quando sono stata a Berlino non mangiavo altro. Facevo collazione con i lamponi, vabbè prendevo quelli tipo sciroppati, però erano senza lo sciroppo perché i lamponi non hanno lo sciroppo e facevo colazione con prodotti tedeschi perché mi sembrava stupido stare in Germania e mangiare prodotti italiani che oltretutto avrei pagato una fortuna. sono viva ed erano buoni. Per quanto riguarda invece la versione della stessa marmellata sempre della Maribel ai frutti di bosco, abbiamo confettura extra di frutti di bosco, frutta utilizzata a 50 grammi su 100 grammi di prodotto, zuccheri totali 60 grammi per 100 grammi di prodotto, prodotto pastorizzato. Ingredienti, frutti di bosco, 25% lamponi, 13% mirtili, 12% more, zucchero, sciroppo di glucosio e fruttosio, gelificante, pectina, acidificante, acido citrico. Una volta aperto questo è arrivare in frigorifero, idem come sopra. Stesso discorso, sono sia i lamponi che i frutti di bosco, due marmellate strepitose, io ve le straconsiglio, non costano tantissimo se considerate che la confezione è da 450 grammi. Ottime, ottime, sia da mangiare spalmate sulle fette biscottate, quindi per la prima colazione, oppure anche come merenda, come spuntino pomeriggiano per i ragazzi, ma anche per gli adulti, oppure da mangiare insieme allo yogurt. Molto spesso io prendo uno dei vasetti di yogurt che autoproduco e ci aggiungo, perché è bianco quello, aggiungo una delle due confetture. Adesso per esempio sto utilizzando la confettura ai frutti di bosco e si possono fare tantissimi dolci, si possono fare le crostate. La crostata ai frutti di bosco con questa confettura viene buonissima. Quindi io straconsiglio il prodotto sfacciatamente, spudoratamente. Il video termina a cui spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Vi ricordo di continuare a seguirmi per non perdere i prossimi video. I canali social a cui sono iscritta sono quelli che appaiono qui in sovraimpressione, vi lascio il link giù nell'info box ovviamente, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Alla prossima, ciao!